Previsioni meteo per martedì 19 novembre. Al nord, nubi sparse con ampie schiarite in riviera Ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo-piemontesi. Al centro, coperto con pioggia debole sui litorali, sulla capitale, ampie schiarite sulle pianure toscane sulla dorsale laziale, nuvoloso con locali aperture sulle regioni adriatiche. Al sud, pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Venti forti dai quadranti meridionali, da deboli a moderati dai quadranti orientali, mari da molto mossi ad agitati. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.